Marco, ma Salvatore? Dovrebbe essere già qui, è andata a portare la macchina. No, ma Salvatore è andata a portare la macchina. No, non sta qua, non sta qua. Ah, non vuoi dire? No, ma Salvatore è andata a portare la macchina. Vieni al parabruccio, il parabruccio si va bene? Grande, ottimo, vai a rincare. Non sembrava, non sembrava, però non sembrava che potrebbe rincare un'altra. Non andiamo indietro. Non sembrava, non sembrava, ma non sembrava che potrebbe rincare un po' di rincare. Ecco, bello. Chi è che ci ha appuntato la giustizia? Tremendo. Cosa? Chi è che ha appuntato la giustizia? Chi è che ha appuntato la giustizia? Beh, devi portare qui l'acqua, me devi lasciare qui l'acqua. No, non si sa. Vai, vai, vai. Tu sei che è tutto in piano. Ehi, vai, vai. Vai, Dino. Svizzera? No! No, 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 no. No, Sergio. Ecco, Dino. 1.970. Adesso. Non ciä sentire a parte. Sì, questa la conosco perché il piscino non so dove, la vado così via. Sì, si è andato su un lago, Marco. Qual è lago? L'arno? L'arno, sì, che bello, mi sono veramente divertito. Bellissimo. La GH d'acqua è proprio... È l'ideale. ... proprio le cose specifici... ... quando c'è il vento. ... quando il fondo è fatto il vento. Esatto. Eh, quello non avete visto il San Magento. Alla davanti che c'è. Non scordate quando c'è il vento. ... come si starà dentro. Ci sei. Aspetti! Eh, vai! Coi si spacca a metà? Senti che rumore che fa! Vai, vai, vai! Beh, tutto qua! Ma aspettiamo che uscimo la ventola! Che ti ha scritto? Che te sei fatto? Direttamente dalla NASA! Vuole regalare una massa... Prendono il pagaio e spara tutto! Vediamo tutto! Non la poter non apprendere voi, la regga! Ma la dangratica! Allora, con chi lo fa? Tu come ti chiami? Debbiamo! Oh! 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 Grandissima! Facci uneschimo! Emiliana, facci sognare! No! L'ultima è sempre Presidente! Ubi Maior! Ubi Maior! Ubi Maior! Andiamo al CES! Mino 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 CES!